Il Gengio oggi in Team Amir ha conquistato la sua parte tesima, altra ragione della massima capitulina della tappa che è arrivato fino al Prato della Valle, pochi minuti dopo le 11-10, è in mare, è un'arrivo innavolata, 16 crisi, secondo voto per un'altra testa Il Gengio oggi è arrivato fino al Prato della Valle, è arrivato fino al Prato della Valle, è arrivato fino al Prato della Valle e poi abbiamo raggiunto tantissimo il numero, ossia di Terlier e di Jonathan a Milan, appunto con il Lattega che è riuscito a porre una propria ruota proprio davanti a quella del Friulano, andando così a negare la quarta affermazione in questo Giro d'Italia di Jonathan a Milan ma ha lavorato la Fulca, ha facciato la giornata di domenica per assistere a questa giornata demorale che ritorna dopo 24 anni da Prato della Valle in questo settimana imparso dalla partita della Valle questa sera di Piero, hava avversato poi Veneto e alcune delle sue parti che ritornava di questo Giro d'Italia, andando da Fulci che Anna da Valle, ha accolto la bonata dei verosi questa giornata che davvero prepara nella stagentetta di domenica sono state gente di Giro d'Italia, come presentare tutti i Giro d'Italia